Il gruppo Lega, il Consiglio Trezzani che ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Io direi che la vicenda catalana ci sta particolarmente a cuore per un semplice motivo. E questo motivo si chiama libertà. E' la libertà di un popolo che non si riconosce solo in un territorio amministrativo, ma anche culturale. Una storia che ha una storia ben precisa e lunghissima. E qua oggi siamo a discutere sul fatto che lo Stato spagnolo ha inflitto 100 anni di galera a 12 esponenti politici. 100 anni di galera per aver promosso un referendum democratico nel quale il popolo catalano si poteva esprimere e si è espresso per la propria autonomia. Un'autonomia che sancita da tutti i trattati internazionali. Quindi se un popolo decide di essere libero deve poter essere lasciato libero. Oggi la Spagna invece ha deciso di fare 12 prigionieri politici. Mi verrebbe da dire che se fosse scritto il nome e cognome sulle schede elettorali probabilmente le persone in galera sarebbero state anche molto di più. Un referendum come dicevo democratico. Come c'è stato in Scozia per esempio nel 2014. dove non ha vinto l'autonomia chi voleva portare l'autonomia della Scozia. Ma in ogni caso la Gran Bretagna ha lasciato libertà alla Scozia e al popolo scozzese di esprimersi. E così non è stato in Spagna. La Spagna che è un territorio, è uno Stato dell'Unione Europea. Un'Unione Europea che in questo caso dorme. Come dorme per tante altre cose. Come l'imposizione di dazi alla Turchia. Però è molto sveglia quando si tratta chiaramente di imporre pressioni fiscali più alte o intervenire sulla politica fiscale degli stati. E così non ha fatto e non è intervenuta su quello che è uno scandalo che c'è in atto in Spagna. Perché poi in Spagna c'è stato un referendum come dicevamo nel 2017 dove la polizia è intervenuta duramente contro i cittadini che avevano in mano una scheda e una matita. Qui stiamo dicendo semplicemente che non è possibile che uno Stato che si dica democratico non lasci esprimere il proprio popolo. Noi siamo per il dialogo. Noi siamo perché in Spagna si possa proseguire a dialogare tra i gruppi politici affinché ognuno possa portare le proprie istanze come diceva anche Comazzi di un regionalismo che in Spagna è molto forte. Però oggi non è possibile perché se chi vuole esprimersi deve essere buttato in galera per cento anni evidentemente c'è qualcosa che non va. E mi fa anche un po' sorridere la posizione del Movimento 5 Stelle che dice che non possiamo dire queste cose sullo Stato spagnolo. Perché invece l'abbiamo detto qualche ora fa sulla Turchia. Ricordiamo che Erdogan è un premier eletto democraticamente dal proprio popolo perché fino a prova contraria così è stato. Però per quanto riguarda la Turchia abbiamo potuto dire che non va bene quello che sta facendo e invece sulla Spagna prende e butta in galera 12 persone per cento anni e invece va benissimo così. Persone che non hanno fatto niente di male non hanno sparato a nessuno, non hanno cercato di uccidere nessuno ha cercato semplicemente di far esprimere democraticamente il proprio popolo e questo è uno scandalo e non possiamo dire diversamente. Per questo motivo ovviamente il gruppo della Lega voterà a favore di questa mozione. Grazie consigliere Trezzani. Quindi non ci resta che procedere alla votazione che ricordo.